Bene capitano, allora usciamo. Ah, beh, siamo fuori dalla caverna finalmente. Grazie, sera Gennaro. Bene, dov'è che si trova il castello? Eh, guarda, stava lì, a nord, verso la padania. Ma, ma quella era un'arancia? Che, che diamine di demonio sei tu? Sono il tuo peggior nemico. Ah, ah 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 Grazie.